Berloni Cucina e fallimento ad un passo Marche Multiservizi, un'assemblea per decidere sui maxi aumenti Torri del Porto, riparte la costruzione 40 anni di weekend gastronomici con Edoardo Raspelli Basket e playoff della VL, applauditi dal Cittipo Zecco Buonasera a tutti voi pubblico di Rossi Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo della sera Ben ritrovati a Rossini News, il telegiornale del Canale 80 Che in questo martedì 9 di maggio apriamo occupandoci della crisi Forse irreversibile di uno dei marchi storici del nostro territorio E' questione di ore infatti l'annuncio del fallimento della Berloni Cucine Che dal 2014 ha iniziato un lungo periodo di recessione Nonostante il più recente ingresso in società del miliardario taiwanese Alex Wang Che ha versato nell'ultimo anno 2 milioni di euro per un piano di risanamento dell'azienda La richiesta di concordato presentata in tribunale nel maggio scorso E' stata però bocciata giovedì dal tribunale Che non ha riscontrato i presupposti di continuità industriale Dopo i lunghi mesi di produzione interrotta I legali di Wang presenteranno ricorso Ma in caso avverso lo storico brand finirà all'asta Grossa incertezza per gli ex dipendenti d'azienda Che vantano arretrati per 540 mila euro Ed ora ci occupiamo del caso di Marche Multiservizi Ha infatti fatto discutere nell'ultima settimana La delibera che ha determinato i maxi aumenti di compenso al Consiglio di Amministrazione Ma ora potrebbe anche esserci un dietro fronte Il servizio La patata bollente sugli aumenti dei compensi al Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi Non si raffredderà prima di fine maggio Ieri la riunione del CDA d'azienda ha previsto la riconvocazione dell'Assemblea dei Soci per la fine del mese Un'assemblea richiesta dal Presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti Che avrebbe per oggetto la revoca dei maxi compensi Che hanno toccato picchi di rialzo lordo fino al 68% nel caso dell'amministratore delegato Mauro Tiviroli E del 57% nel caso dello stesso Presidente Pierotti Il tutto con l'aggiunta di indennità ai consiglieri d'amministrazione passate da 9 a 15 mila euro annui Un caso politico che ha fatto discutere nell'ultima settimana col Presidente della provincia Giuseppe Paolini Nel mirino in quanto ispiratore di un'approvazione di aumenti di 112 mila euro annui complessivi Formalizzati dall'Assemblea dei Soci del 20 di aprile Un ok che era arrivato con un pieno di voti di 50 sindaci a favore Ad eccezione dell'astensione dell'assessore comunale di Montelabate Pierluigi Ferraro Ieri il CDA di Marche Multiservizi è stato preceduto da una lettera inviata allo stesso Consiglio Dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini Che ha confermato il suo parere favorevole agli aumenti Ma al contempo ha chiesto l'annullamento della delibera che gli ha approvati In quanto la discussione viziata dalla presenza in aula dei beneficiari degli aumenti Per Gambini si è trattato di una inadempienza che ha condizionato interventi e voti dei soci Ora l'Assemblea chiarirà se ci sarà o meno un dietrofront da quanto deliberato il 20 aprile Sono ripartiti i lavori per realizzare le due torri d'appartamenti al porto di Pesaro Dopo più di due anni di stop Renco ha infatti avviato le attività propedeutiche Per l'avvio del cantiere della società Nova Portum Che prevede la realizzazione di due edifici progettati dallo studio Gaudenzi Che sorgeranno al posto dell'ex consorzio agrario appunto demolito due anni fa E' stato completato lo spostamento dei sottoservizi e realizzata la base in cemento armato Per posizionare la prima gru e nei prossimi giorni verranno realizzate le fondamenta Per dare via all'attività operativa intensiva Il progetto in fase di realizzazione è quello originariamente approvato Con 63 appartamenti e 6 unità commerciali al piano terra Rimaniamo a Pesaro dove negli ultimi giorni Durante i lavori della realizzazione della pista ciclabile di Vismara Sono emerse 10 cisterne ricoperte in fibrocemente contenente amianto L'amministrazione comunale ha già trovato una ditta specializzata nello smaltimento Mentre non si sa chi possa averle lasciate lì Né a quanto tempo fa risalga l'abbandono In attesa di una bonifica totale del terreno I lavori dovrebbero riprendere entro fine mese Si terrà domattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria Goretti di Fano Il funerale di Tommaso della Dora Il segretario del PD di Fano è improvvisamente venuto a mancare Lo scorso venerdì in seguito ad un malore Aveva appena 43 anni Un lutto che ha lasciato affranto una comunità In cui della Dora era impegnato attivamente Sia in politica sia come educatore sociale Ed ora cambiamo argomento E ci occupiamo di Confcommercio Marche Nord Che ha celebrato ieri 40 anni dei weekend gastronomici a Mondolfo E l'ha fatto in compagnia di un mattatore della critica enogastronomica italiana Come il giornalista Edoardo Raspelli Vediamo tutto nel servizio realizzato da Nicoletta Tagliabracci Amici e amici ben ritrovati su Rossini TV Oggi siamo a Mondolfo Siamo all'interno del complesso museale di Sant'Agostino E dove la Confcommercio Marche Nord Sta festeggiando i 40 anni della sua principale iniziativa Quella dei weekend gastronomici Ospite attesissimo Edoardo Raspelli In questa iniziativa che appunto è la più longeva della ragione Marche Per quanto riguarda la promozione dell'enogastronomia In questa edizione primaverile dei 40 anni Si sta dimostrando veramente una manifestazione di grande successo Tutti i ristoranti sino ad oggi hanno triplicato le presenze rispetto all'anno scorso A dimostrazione se ce ne fosse stato bisogno Che i weekend gastronomici sono una manifestazione molto attesa dai consumatori E dagli stessi ristoratori Una manifestazione di successo per la quale noi abbiamo voluto quest'anno un po' strafare E quindi dedicare molta attenzione ai ristoratori Sia con il premio, l'Oscar della ristorazione Che è stato dato a Rolando Ramoscelli Consegnato a Rolando Ramoscelli Sia con questo confronto con uno dei padri della critica enogastronomica italiana Che è Edoardo Raspelli L'inventore delle 3T Terra, territori e tradizioni Che sono gli elementi su cui si basano i weekend gastronomici Edoardo Raspelli Lei si definisce un cronista della gastronomia Sì, io ho fatto 10 anni di cronaca Poi il direttore dell'edizione Polizio Corriera Sera Sia con le informazioni Cesare Lanza mi dice Tu che ti piace cucinare Non cucinare ma Ti piace mangiare Che racconti i ristoranti Tra di noi così Intanto con tanta passione Ma perché non gli racconti il giornale? Però voglio anche i ristoranti cattivi E quando io ho cominciato nel 75 Ahimè in Italia si mangiava molto male E io però al di là dei piatti Buono che devi che fosse Raccontavo le atmosfere Ma ancora adesso no? I piatti che io mangio in ristorante Li relego nelle ultime righe Perché tanto io magari un ristorante L'ho provato due mesi prima Faceva freddo e poi fa caldo Cambia la stagione E quindi cambiano i piatti Però rimane da cronista Rimane la difficoltà O la facilità di parcheggio Rimane l'atmosfera Rimane la carta dei vini E se ha dei buchi oppure no Insomma Quindi racconto da cronista Quello che io Non sono la Corte di Cassazione Non sono neanche la Corte d'Appello Sono un tribunale Ma neanche Sono uno che dà il mio parere Ovviamente valorizzato dal fatto Che lo faccio Da 1975 E vi ricordiamo Che potrete approfondire I 40 anni Dei weekend gastronomici A Mondolfo In compagnia di Edoardo Raspelli Nello speciale realizzato Dalla nostra Nicoletta Tagliabracci Che andrà in onda Sabato 13 maggio Alle 21.20 Ora cambiamo argomento E parliamo Della nascita a Pesaro Dell'Associazione Archeologia e Cultura Nuova Accademia Pesarese Una nuova accademia Che ha l'intento Di promuovere La conoscenza La tutela E la valorizzazione Dei beni culturali E della documentazione Archeologica Del nostro territorio Noi siamo molto orgogliosi Di presentare Alla cittadinanza Questa nuova formazione Culturale Si tratta di un'associazione Che come si è detto Nella conferenza stampa È soprattutto votata All'interesse Al risveglio dell'interesse Per la ricchezza archeologica Di Pesaro E della provincia Di Pesaro Si tratta di una Nascita Ma anche di una rinascita Perché questa associazione Vuole recuperare Tutte le energie In passato Che in passato Hanno dato forza All'Archeoclub Un'associazione Che purtroppo Da qualche anno Non esiste più E che invece Ecco Noi vorremmo Rivitalizzare Quindi recuperare Gli iscritti Di questa associazione Che erano diverse decine Mi sembra che fossero Più di 200 E perché no Aumentare gli iscritti In particolare Rivolgendosi Rivolgendoci Ai giovani Ci faremo subito Diciamo Promotori Di un'iniziativa Che è stata già avviata In passato Ma che In questo momento Un po' langue Cioè quella Del recupero Di alcuni reperti Archeologici Ritrovati Nel territorio Di Pesaro E della provincia Di Pesaro Ma che sono Allocati altrove In particolare Al Museo Archeologico Di Firenze Alludo E soprattutto Al famoso Idolino Che è una delle Diciamo Pietre preziose Della ricerca Archeologica Sul nostro territorio Nel panorama Di Pesaro Capitale della cultura 2024 Un ruolo Quanto mai centrale Pop Sofia Che da un decennio È un faro nazionale Su Pesaro In merito A tematiche Legate alla filosofia Il tema Di questo 2023 Sarà Amati mostri Il tema È Amati mostri Pop Sofia 2023 Si presenta Con il minotauro Di Pablo Picasso L'unione di umanità E animalità Per eccellenza Ecco che vogliamo Indagare Questa attrazione Repulsione Nei confronti Del mostro Il mostro Chiaramente compare In tante narrazioni Contemporanee Nella cultura di massa E Pop Sofia Lo farà attraverso Conferenze Spettacoli Per tre giorni 7, 8 e 9 luglio Nel centro di Pesaro Parleremo dei mostri Che amiamo E che odiamo E che forse sono Molto più vicini a noi Di quello che pensiamo Una tre giorni Fantastica Che celebra Tra altre cose Anche i 50 anni Della scomparsa Di Pablo Picasso E tanti altri elementi Di gioco Sul contemporaneo Da Dino Risi Elementi che Nella grana sul cinema E come sempre Tutte produzioni originali E quindi anche Diciamo uno sforzo Produttivo Per cui siamo grati A Lucrezia Da Ermes E anche tutte le persone Che collaborano A vario titolo A questa manifestazione Che ormai È completamente Nel cuore Di Pesaresi E da una radice Solida A Pesaro Pur essendo Un orgoglio Marchigiano Che tra l'altro Ci proietta Con forza Anche verso la capitale Italiana 24 Verso un'edizione 2024 Che sarà Ancora più pop Torna il tradizionale Appuntamento Con il Grand Tour Musei L'iniziativa Promossa Dalla Regione Marche Dalla Fondazione Marche Cultura Per il 13 e 14 maggio In particolare A Pesaro Sabato 13 maggio Ci sarà La Notte Dei Musei Con i Musei Civici Il Museo Della Bicicletta E la Mostra Super Basket 45 Al Centro Arti Visive Pescheria Che saranno Visitabili In notturna Fino a mezzanotte Tanti gli appuntamenti Anche di domenica 14 maggio Tra cui vi segnaliamo Quello della Biblioteca E dei Musei Oliveriani Che proporranno L'attività ludico E culturale Dedicata a bambini E famiglie Alla ricerca Dei Piceni Oriente Ring Archeologico Per le vie del Borgo A cura Dell'archeologa Vanessa Lani Proseguono invece Le iniziative Di educazione Ambientale E informativa Di Lega Ambiente Pesaro Che domani In collaborazione Col Parco San Bartolo Terrà il dibattito L'Amazzonia ferita Che resiste Alla presenza Di Angelo Ferracuti Giornalista Della stampa E autore del libro Viaggio sul fiume Mondo L'appuntamento Per domani Alle 18 All'auditorium Ex scuola Di Santa Marina Alta Tatiana Cosleva Pallavolista Capitana Della Megavox È diventata Ufficialmente Cittadina Di Vallefoglia Dopo aver formalizzato Il trasferimento Della sua residenza Nelle comune Del pian del bruscolo Il sindaco Palmirocchiello Ha ringraziato L'atleta di livello Mondiale Per questa scelta Omaggiandola Di un piatto In ceramica Con lo stemma Del comune E con il nuovo libro Vallefoglia Paesaggio Con figure Da un personaggio Della pallavolo Passiamo invece Ad un grande personaggio Delle basket All'indomani Della fine Della regular season Della qualificazione Playoff Della VL Pesaro Ha infatti ricevuto Ieri la visita Dell'allenatore Della nazionale Gianmarco Pozzecco Che assieme Al presidente federale Gianni Petrucci Ha visitato La mostra Dedicata Ai 45 anni Di Superbasket Al centro Arti Visive Pescheria Vediamo I contenuti Emersi Da questa intervista A Gianmarco Pozzecco E a Gianni Petrucci In questa occasione Anche i vertici Del basket azzurro Fanno tappa Pesaro In visita Alla spettacolare Mostra dedicata Ai 45 anni Di Superbasket Il ct della nazionale Gianmarco Pozzecco Il presidente federale Gianni Petrucci Hanno fatto tappa Al centro Arti Visive Pescheria Per apprezzare L'esposizione Curata D'Alberto Cecere In un giorno Particolare Per il basket Italiano E pesarese Ovvero All'indomani Della conclusione Della regular season Della Serie A E della qualificazione Ai playoff Della VL Alla fine Penso che ieri Per Pesaro Sia stata una giornata Emozionante Per i tifosi Perché Perché ho seguito Tutto quello che è successo E siete Usciti dal campo Vittoriosi Ma non ancora Con la qualificazione In pugno Poi immagino Penso che abbiate seguito Tutti insieme L'andamento Della partita I scaffati E quindi avete festeggiato Due volte Nella stessa giornata Queste sono le emozioni Di cui vi parlavo prima Pesaro in questo momento Non ha Come dire Vinto nulla Però la verità È che invece Ha raggiunto Un obiettivo Che è Insomma Ambito E che vi ha Che ha provocato gioia Treviso L'ha vissuta Una settimana fa Nel mondo dello sport Dobbiamo un po' Secondo me Cambiare Ecco Questa Questa mentalità Riuscire a capire Che Ci sono squadre Che hanno Determinati Obiettivi Altre che ne hanno Diversi È un po' zecco Quanto mai Focalizzato Su quanto Questo campionato Abbia prodotto Sulla valorizzazione Di giocatori italiani Spesso relegati A comprimari La VLS Invece dimostrata Un valore aggiunto Per farli assurgere A ruolo di protagonisti A Pesaro Moretti Tambone Insomma Sono giocatori Che secondo me Hanno avuto Un buon impatto Visconti Sì anche Tote È vero Sta giocando Di più Sta giocando bene Io sono convinto Che ogni squadra Forzatamente Per esempio Dobbiamo mettere Dei giocatori In quintetto Soprattutto I italiani Per riuscire poi Ad avere Un roster Sufficientemente Competitivo Spero che questa cosa Insomma Tecchisca Sempre di più Torna a Pesaro Anche il presidente FIP Gianni Petrucci Ancora più legato Alla palacanestro Cittadina Vista l'imminente Realizzazione Della cittadella Del basket Pesaro è una delle città Importanti Della palacanestro Italiana E merita questo E ha meritato anche Senza nulla Togliere a Varese Il fatto Della cittadella Del basket E poi Conriccio Un rapporto particolare Avete visto poi Quando la nazionale È venuta qui Quel supplementare Sfortunato Però poi L'abbiamo battuto In Spagna Loro Tutto esaurito Il parterre De Ruà Tutti i grandi Dal ministro Dello sport Malaco Valentino Rossi Pecco Bagnaia Quindi Pesaro merita Questo e altro Da Petrucci A Pozzecco Inevitabile Il pensiero al mondiale Sono convinto Che 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 Il giro Non è così semplice Per come sembri Però è anche vero Che poteva essere Estremamente più complicato Se avessimo beccato L'Australia O l'America Quindi Poi è anche vero Che penso Che in competizione Del genere Essere fortunati È molto meglio Essere fortunati All'inizio Che alla fine Però Insomma Siamo soddisfatti Di quello che è stato Il sorteggio E Siamo Sono Convinto Che I ragazzi I ragazzi Che faranno parte Della Una partita persa Penso che Che la gente Si sia divertita Si fosse divertita E Lo dico da un po' Non dobbiamo essere così Focalizzati sul risultato Perché è vero Che il risultato è importante Però è anche vero Che secondo me Le emozioni Che Che una squadra Che una squadra di palacanestro Può regalare Non sono sempre Come dire Così condizionate Dei risultati Si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Ma prima di salutarci Vi ricordiamo alcuni Appuntamenti Sulla nostra emittente Sul canale 80 A cominciare Dalla prima serata Di questo martedì Che alle 21.20 Vi propone L'inaugurazione Della mostra Passo a due Una mostra Realizzata Dalle artiste Valentina De Martini E Giusi Laurio La cura Di Federica Di Stefano Mostra Che si tiene Alla villa Le limonaie Di Muraglia A seguire Alle 21.40 Rivivremo Quanto accaduto Sul San Bartolo Nella seconda edizione Di Winet Tornatura Esperienze Conversazioni Questo festival Dedicato A tematiche Ambientali E climatiche Appuntamento Questa sera Alle 21.40 A seguire Martedì Anche la serata Di storie Racconti Di successo Nella provincia Di Pesaro E Urbino Questo martedì Alle 22.10 Vi riproporremo La puntata Dedicata A Luigino Gambini Di Gambini Meccanica Repliche Anche giovedì Alle 15.15 Sabato Alle 21 E domenica Alle 12 Facciamo un passo avanti Anche a domani Ricordandovi L'appuntamento Fisso Con l'informazione Del mattino Quella di Buongiorno Rossini Quella della Rassegna Stampa Dei Quotidiani Locali Che come Sempre Vi tiene compagnia In diretta A partire Dalle 7.20 La serata Di domani Mercoledì 10 maggio Sarà invece Dedicata Ad una Nuova puntata Di Amministrando Il nostro Forma Dedicato Alle politiche Locali Alle attività Amministrative Comunali Provinciali E regionali In questo caso Avremo ospite Palmirucchielli Sindaco Di Vallefoglia Amministrando Domani Alle 21.20 Come ogni Mercoledì Facciamo un salto in avanti Anche a giovedì sera Perché arriva L'ultima puntata Di Insieme A Canestro Di questa stagione È finita la Regular Season Finisce anche L'appuntamento Con le dirette Del nostro Marco Cadedu Ospite Di questa Ultima puntata Sarà il coach Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repeja Assieme all'ex Giocatore Della VL Roberto Terenzi E come di consueto Alla possibilità Dell'interazione In diretta Con voi Telespettatori Al numero Whatsapp Dedicato 370-366-7210 Dunque Insieme a Canestro Giovedì 11 maggio Alle 21.20 In diretta In compagnia Di Jasmin Repeja E si conclude Invece qui Questo spazio Informativo Della sera Si conclude Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi